buongiorno a tutti oggi è il primo aprile e è sant'ugo e quindi do un bacino a mio papà e lassù e li faccio tanti auguri ciao katia buongiorno abbiamo già tre occhietti ciao ciao anche oggi ho un sacco di cose da raccontarvi nell'altra stanza si sta si sta svolgendo una riunione via skype e quindi se doveste sentire una voce esterna è questo chiaramente stiamo lavorando tutti da casa io mi prendo questo spazio ma anche io chiaramente tutti i giorni smart working che poi di fatto è lavoro da casa e quindi si fanno telefonate si contattano i propri i propri medici e almeno nel nostro lavoro io il mio fidanzato questo facciamo e oggi è successa una cosa bellissima che ho scritto come post in realtà l'ho messo dappertutto perché è stato è stato bellissimo ricevere questo tipo di insomma di di complimento perché davvero si tratta di una cosa importante ho chiamato appunto un medico per sapere con me come insomma come stavano andando le cose e lui è stato chiaramente recluta reclutato per fare le notti e per star dietro al coronavirus ai pazienti con il col covi 19 e mi ha detto che durante le notti quando ho un attimo di tregua ascolta le mie fiabe e questa cosa lo fa stare bene e lo fa sorridere e la cosa più bella è stata che quando ha messo giù mettendo giù il telefono ho sentito che diceva la collega mi fa troppo ridere e quindi questa cosa è stata è stata davvero bella e l'ho gradita l'ho gradita molto e quindi per dirvi che continuerò a fare queste dirette per chi per chi gradisce e insomma basta perché sennò divento prolissa allora già una cosa importante l'ho detta io volevo aspettare ciao fiorenza ben arrivata il mio mitico francesco è già qui il mio poeta autore di romanzi che leggerò a breve ho già letto in toto ma dicevo leggerò sul mio canale youtube alcuni brani dei suoi romanzi lui si chiama francesco brunetti e oltre a essere un medico che che frequento ancora oggi per questioni lavorative è diventato un carissimo amico ed è un bravissimo scrittore che fa delle descrizioni meravigliose abbiamo un altro francesco ciao buongiorno siamo a cinque occhietti io oggi ho tantissime cose da dirvi e vi vorrei far conoscere anche un po la lucia extra fiaba la lucia extra fiaba è un appassionata di marco mengoni ebbene si lo confesso da x factor devo dire che è diventato il mio carlo frilli che piacere ciao ben arrivato è diventato il mio il mio beniamino io sono decisamente più grande di lui e quindi giuro che non faccio la pazza ai suoi concerti ma ci vado ci vado e preferibilmente vado sola perché ho bisogno di godermelo che cosa è successo che io ho avuto ciao stefania ciao lara ciao a tutte stavo raccontando stefania della mia passione per marco mengoni che mi ha portato questa notte a sbarrare gli occhi a dire lo faccio perché ha scritto una canzone che secondo me è perfetta per questo periodo vi giuro che non canto ben arrivata vittoria vi giuro che non canto ma ho piacere di darvi questo di darvi insomma questa pillola poi mi fate claudia che bello quanti siete oggi insomma ve la leggo la canzone si intitola esseri umani ed è tratta dal cd dal suo dal suo da uno dei suoi dischi parole in circolo oggi la gente ti giudica per quale immagine hai vede soltanto le maschere non sa nemmeno chi sei devi mostrarti invincibile collezionare trofei ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei credo negli esseri umani credo negli esseri umani credo negli esseri umani credo negli esseri umani che hanno coraggio coraggio di essere umani prendi la mano e rialzati tu puoi fidarti di me io sono uno qualunque uno dei tanti uguale a te ma che splendore che sei nella tua fragilità e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà non pensate che sia proprio adatto a questo momento che stiamo vivendo credo negli esseri umani credo negli esseri umani credo negli esseri umani che hanno coraggio 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 di essere umani coraggio di essere umani coraggio di essere umani io resto a casa wow questa è una canzone che appena l'ho ascoltato non mi è piaciuta per niente poi mano a mano poi andando ai concerti e vedendo anche ogni volta come la scenografia che invastiva dietro a questa canzone mi ha fatto lentamente innamorare e quando mi è venuto in mente ho detto caspita potrei provare a leggere una canzone non so spero che vi sia piaciuto mettetelo nei commenti se vi è piaciuto oppure no perché potrebbe diventare anche un modo per continuare e quindi scegliere delle canzoni e leggerle sperando di non creare problemi di non disturbare di non fare caos a livello di diritti ma io non credo allora direi che possiamo andare al sodo e possiamo cominciare con la fiaba Gigi non c'è, oggi proprio non c'è perché Gigi sta facendo il bagnetto per cui penso che sarà asciutto tra una settimana di conseguenza io resto con Gino il topolino con il lungo codino e partiamo con la fiaba di Fiorenza Pistocchi le ultime due puntate del super lupo oggi concludiamo ricordatemi quando abbiamo finito che vi devo dire un sacco di cose ma una ve la dico subito domani non c'è nulla e poi vi spiego perché ma è soltanto domani poi ci sarò allora aspettate che vi vada a prendere la favola del super lupo super lupo e l'agnello vi ricordate che il super lupo alla fine era rimasto nell'albergo della mamma capra nella locanda insieme ai sette capretti il giorno dopo super lupo si alzò di buon mattino salutò mamma capra e i suoi piccoli prese la metropolitana e arrivò davanti alla redazione del giornale più importante di gran città notizie sera voleva fare il giornalista fu accolto da una segretaria distratta che gli chiese che cosa desidera scusate tolgo la suoneria voleva fare il giornalista fu accolto da una segretaria distratta che gli chiese che cosa desidera vorrei parlare con il direttore ha un appuntamento? veramente no? com'è posso fare? la segretaria finalmente lo guardò l'aspetto di Pier Giulio dovette colpirla molto perché disse vado a vedere se il capo è libero intanto lei si accomodi nella saletta per gli ospiti entrò in una stanza dove c'erano delle comode poltroncine poco dopo direttore decise di vederlo e di riceverlo buongiorno giovanotto siediti e dimmi il motivo della tua visita Pier Giulio accennò un inchino e cominciò vede direttore fin da quando ero piccolo a scuola mi piaceva scrivere e commentare quello che succedeva nel mio paese mi piacerebbe lavorare per lei interessante disse il direttore però non basta per essere assunti nel giornale più importante di gran città di solito io sottopongo gli aspiranti giornalisti a un periodo di prova sei disposto a correre su e giù per la città in cerca di notizie? Pier Giulio accettò con entusiasmo bene disse il direttore comincerai domani il giorno dopo Pier Giulio si presentò con Tacquino registratore e macchina fotografica ma invece del direttore trovò un uomo che gli disse sei tu il pivellino che il direttore vuole mettere alla prova? credo di sì disse Pier Giulio intimidito vieni con me l'uomo condusse Pier Giulio in una stanza dove davanti a una console di videogiochi c'era un ragazzino tra i nove e i dieci anni Pier Giulio era sconcertato e allora che devo fare? è il nipotino del direttore si chiama Diego ed è una vera peste il direttore ha detto che lo devi portare con te ma io sono in prova come giornalista non come babysitter protestò Pier Giulio gli ordini del capo non si discutono disse l'uomo e li lasciò soli Pier Giulio si avvicinò al ragazzino lo prese per mano Diego non voleva smettere di giocare perciò si mise a urlare lasciami brutto l'epaccio mi strittogli la mano aiuto aiuto mi rapiscono a quelle grida accorsero tutti gli impiegati ma quando videro che cosa stava succedendo si misero a ridere come matti e tornarono nei loro uffici Pier Giulio rosso per la vergogna tenendo per mano il ragazzino si avviò all'uscita si caricò il piccolo scanciante sulle spalle pensando che Diego aveva bisogno di una lezione decise di portarlo a casa della vedova capra Diego non era mai stato in metropolitana con la gente comune era abituato a essere portato in giro sull'auto del nonno servito e riverito dall'autista la curiosità di guardarsi in giro ebbe un'azione calmante su di lui smise di agitarsi e Pier Giulio lo pose su un sedile perché sei così agitato? gli chiese non lo so non ho niente da fare mi stufo ma con me non potrei mai annoiarti non ci credo tutti mi annoiano tutti si comportano sempre nello stesso modo prima mi rimproverano e poi mi comprano i giochi ti assicuro che io non lo farò arrivati alla locanda di mamma capra Pier Giulio si accorse che qualcosa non andava senza mai lasciare la mano di Diego salì le scale andò nella sua stanza aprì il cassetto delle pizze e ne mangiò alcune fette di vari sapori Diego era incuriosito dai anche a me un pezzo di pizza? chiese no, no, no mi serve è molto preziosa per me ma io non l'ho mai mangiata mi danno sempre salmone e caviale a colazione brodo di tartaruga a pranzo e filetto di quaglia a cena ti ho detto di no non è uno spuntino per bambini capricciosi ribadì Pier Giulio irritato quel ragazzino gli impediva di concentrarsi sulle sensazioni che aveva provato entrando finalmente Diego tacque Pier Giulio percepì uno strano odore che proveniva dal canale che scorreva accanto all'orto di mamma capra se fosse stato solo si sarebbe alzato in volo per scoprire da dove proveniva quell'odore ma c'era Diego Pier Giulio decise di fare ugualmente ciò che aveva pensato senti Diego facciamo così ora tu ti aggrappi alla mia cintura ma stai molto attento qualunque cosa succeda non staccarti mai da me va bene disse Diego perplesso con un balzo Pier Giulio arrivò al davanzale e un attimo dopo era già in volo con Diego ammutolito che sembrava un fagotto appeso alla sua cintura dall'alto tutto appariva chiaro nel canale arrivavano le acque di scarico di una fabbrica il liquido puzzolente usciva da un tubo Superlupo e Diego entrarono nella fabbrica passando da una finestra aperta e si posarono dentro il capannone Diego era entusiasta altro che videogiochi con te si che ci si diverte stai zitto non sono entrato qui per farti divertire ma per scoprire chi sta inquinando l'acqua del canale il capannone era occupato da un rumoroso macchinario automatico dei carrelli trasportavano un materiale spugnoso e rossastro fino a un grande recipiente delle sostanze colorate vi venivano aggiunte polveri succhi ceneri un'enorme pala rimescolava gli ingredienti da cui proveniva una puzza insopportabile dei nastri trasportatori uscivano dal recipiente e portavano l'impasto a un'altra macchina che lo metteva in sacchettini di forma cilindrica che venivano chiusi formando dei salsicciotti ma questi sono degli hot dog esclamarono insieme Piergiulio e Diego ma sono pieni di veleni e con gli scarti inquinano l'acqua disse indignato Piergiulio dobbiamo fare qualcosa esclamò Diego in tono altrettanto deciso Piergiulio lo osservò per un momento il ragazzino non somigliava più al discolo scalciante di poco prima forse era proprio la noia che lo aveva fatto diventare antipatico forse poteva diventare un bravo ragazzo chissà improvvisamente il suo super udito percepì del rumore dall'altro lato del capannone spiccò il volo con Diego sempre ben aggrappato a lui e in un attimo furono fuori davanti alla fabbrica c'era un gruppo di manifestanti con cartelli e striscioni c'era scritto no la fabbrica dei veleni basta fate i salsicciotti con la carne vera abbasso quinquina ridateci l'acqua pulita erano tutti dei grandi cartelloni il capo dei manifestanti era un agnello che ripeteva le frasi al megafono Piergiulio e Diego sedettero sul tetto di un edificio vicino e osservarono la scena con interesse dal balcone della fabbrica si affacciarono quattro uomini vestiti di nero che si misero a urlare smettetela lasciateci lavorare i nostri prodotti sono buonissimi e tra poco nessuno potrà farne a meno l'agnello rispose siete voi che dovete smettere di avvelenare l'acqua e l'aria non vogliamo i vostri salsicciotti non ci piacciono teneteveli teneteveli beh l'uomo e i suoi compagni presero dei fucili e li puntarono sulla gente nel frattempo Piergiulio non si era accorto che Diego aveva preso dalle sue tasche dei pezzi di pizza e li aveva mangiati ehi guarda Supergiulio ehi volo anch'io sono diventato Super Diego si mise a gridare mentre volava zig zag Super lupo non sapeva se andare a strappare di mano i fucili agli uomini cattivi oppure precipitarsi a bloccare il ragazzino la sua esitazione permise a Diego di agire si buttò addosso agli uomini con i fucili e con un super spintone fece cadere i fucili nel canale gli uomini scapparono impauriti e non si fecero più vedere l'agnello corse da Diego che era atterrato e gli strinse la mano bravissimo sei stato coraggioso ma l'agnello non fa beh beh è la capra va beh scusatemi eh sì comunque l'agnello gli dice bravissimo sei stato molto coraggioso Diego si rivolse a super lupo e gli disse hai visto sono capace anch'io di fare le cose importanti Pier Giulio era perplesso com'era possibile che la pizza avesse compiuto su Diego lo stesso prodigio che avveniva in lui l'agnello e altri suoi amici entrarono nella fabbrica e spiegarono a Diego e Pier Giulio che tenevano d'occhio la fabbrica da parecchio ora che gli inquinatori sono scappati useremo la fabbrica per ripulire l'acqua ci aiuterete certo risposero i due raccomandarono all'agnello e ai suoi compagni di non raccontare come si erano svolti davvero i fatti e promisero che avrebbero scritto un articolo per notizie sera quando furono lontani Pier Giulio che non riusciva a capacitarsi di non essere l'unico super disse per qualche misteriosa ragione la pizza ha su di te un effetto strabiliante non so perché ma adesso di sicuro non mi annoierò più e potrò fare delle cose buone disse Diego se vuoi lavoreremo insieme però devi mantenere il segreto sui tuoi poteri e io ti insegnerò a usarli bene disse Pier Giulio certo rispose Diego entusiasta Pier Giulio scrisse un articolo intitolato Giovane Agnello sbaraglia una banda di inquinatori nel quale descrisse con molti particolari inventati la lotta contro gli inquinatori quando andò con Diego dal direttore del giornale questo rimase impressionato dal cambiamento del nipotino calmo tranquillo come non era mai stato li fece sedere nel suo studio e lesse l'articolo complimenti giovanotto il tuo articolo va benissimo ma dimmi come hai fatto a domare il mio capriccioso nipote Diego non è cattivo gli rispose Pier Giulio si annoiava era abituato a essere accontentato in tutto aveva troppi giocattoli ma si sentiva inutile l'ho coinvolto nel mio lavoro e così è avvenuto il cambiamento bravo sei assunto porta con te Diego quando lavori Pier Giulio e Diego uscirono insieme dallo studio vieni Diego andiamo a farci una scorpacciata di pizza disse Pier Giulio facendo l'occhiolino si rispose Diego e insieme andarono via allora le avventure del super lupo sono finite ma vi ricordate che noi all'inizio abbiamo conosciuto lo scrittore di fiabe quello che ha permesso al lupo di diventare super lupo andiamo a vedere come va a finire anche con lui è lui che parla si chiama Ottone Libretti che dice finita di scrivere la fiaba feci qualche correzione qua e là poi portai il mio racconto all'editore Carlo Pedretti il suo ufficio si trovava nel centro della cittadella della scrittura di Gran Città il palazzo dei sogni di bimbi la casa editrice che aveva l'esclusiva di tutte le mie opere era il più bello 18 piani terrazzi con fiori uffici luminosi segretarie giovani e carine e il portiere che ogni giorno si vestiva come un personaggio delle fiabe quel giorno era vestito da Pinocchio come va signor Libretti le parole uscirono da sotto un naso lungo 60 centimetri che mi piantò quasi in un occhio quando si chinò a salutarmi ahia bene mi annunci al signor Pedretti dissi non so se potrà riceverla oggi deve incontrare una decina di scrittori giapponesi gli dica che se non mi riceve subito mi rivolgerò alla casa editrice e fiabe per tutti riferirò disse il portiere avvicinandosi al citofono la minaccia ebbe il suo effetto il portone si aprì e il portiere mi accompagnò l'ascensore quando entrai nello studio dell'editore lui era seduto alla sua scrivania durante il nostro colloquio il telefono squillò almeno 10 volte e la segretaria entrò a fargli firmare delle carte fu quindi difficile far capire a Pedretti il contenuto del mio racconto ma alla fine mi disse va bene sono disposto a stampare questa storia un po' strana vorrà dire che se ai bambini non piacerà le farò pagare le spese di spedizione e soprattutto le farò pagare le spese di stampa allora non abbiamo mica finito penserete mica di andare via ho ancora un sacco di cose da raccontarvi cioè ovviamente ci sono sempre un paio di sorprese ma vi vorrei dire questo allora domani come vi accennavo non sarò in diretta su Facebook alle 16 perché una blogger che abita in Sardegna mi ha chiesto di fare un'intervista in diretta alle 21 su Instagram lei si chiama Valentina Vinci e la sua pagina si chiama i viaggi dell'orsetto è abbastanza chiaro le ragioni per le quali abbiamo fatto amicizia no? io ho il mio orso di Gini al quale faccio raccontare le fiabe e lei ha due orsi li ho conosciuti perché quando sono andata a lavorare in Sardegna mi è venuta a trovare in hotel e così abbiamo fatto amicizia quindi lei ha questi orsi che porta ovunque hanno persino la carta d'identità gli orsi gli ha fatto fare la carta d'identità e il passaporto perché li porta in giro con lei lei abita a Airbus fatto sta che mi ha chiesto di fare questa diretta che io chiaramente ho apprezzato il suo show si chiama scusate vado a leggere perché non voglio dire sciocchezze Orso Alessio Show e inizia alle 21 ogni giorno c'è una diretta diversa e domani che il 2 di aprile dalle 21 alle 22 ci sono io mi farà un'intervista mi chiederà un po' di cose e io leggerò un sacco di romanzi non vi voglio anticipare niente così se vi fa piacere vi sintonizzate alle 21 i viaggi dell'orsetto dovete seguire e così riusciamo a a vederci anche domani altra informazione come vi dicevo lavoro da casa il lavoro da casa comporta che a volte come sta succedendo adesso di là ci siano delle riunioni io ho delle riunioni 4-5 giorni dalle 17 alle 18 e 30 per cui io direi che a parte domani che vi ho già detto che non ci sarò le successive puntate di fiabe che scopriremo insieme quali saranno verranno in diretta alle averranno in diretta alle 16 d'accordo? comunque io ve lo scrivo c'è Katia e quindi non posso esimermi dal darvi una piccola favola di Jacopo Perego le favole che fanno crescere anche chi è già cresciuto Katia fammi vedere che ci sei batti un colpo come si suol dire quest'uomo meraviglioso che io ancora non conosco e non ho neanche mai visto in faccia eccola ha fatto su Amazon ha pubblicato in un unico volume 500 fiabe favole in realtà favole per canola morale adesso io ve ne leggo una si intitola Un perfetto innamorato Un imperfetto scusatemi Un imperfetto innamorato Un imperfetto innamorato era appena stato lasciato perché qualcosa di grosso aveva combinato allora chiese a Cupido il più grande esperto in amore se un giorno la sua amata avrebbe accettato di riparare la loro relazione ed esso rispose se un vestito cencioso si rompe le persone che fanno vanno a buttarlo e se si strappa un abito prezioso lo rattoppano e tornano a indossarlo ecco disse Cupido domandati se il vostro amore è un vestito cencioso o un abito prezioso e avrai la risposta al tuo quesito amoroso bello bello no? Fiorenza non è capace a tenere le sorprese sta scrivendo ci vediamo per le prossime puntate inedite di Superlupo ma doveva essere una sorpresa Fiorenza vabbè vediamo 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 adesso arrivo con l'ultima sorpresa mi ha preso così ragazzi non ho mai voglia di salutarvi che ore sono 16 e 46 no non ho sbagliato aspetta 16 e 27 Katia so bene che conosce Camilla so bene che lo conosce allora qui siamo sempre con Sara Rattaro che ha scritto un romanzo per bambini che è quello che vi ho letto l'altro giorno Contenono Paura e sono due ma devo dire che ce ne saranno altri so per certo che ne sta scrivendo un altro sempre per ragazzi e questo si intitola Sentirai parlare di me. Ieri vi ho letto Il cacciatore di sogni, sono sempre storie che hanno a che fare con grandi personaggi, qui si parla di Nelly Bly che è stata la prima giornalista importante della storia ed è stata così, come si può dire, meravigliosa, scusate non mi viene un termine diverso, è stata così cocciuta che si è finta di essere pazza per poter entrare in un manicomio e capire perché le donne di allora una volta entrate nel manicomio non uscissero mai, chiaramente venivano probabilmente uccise o avevano dei trattamenti davvero, tenete conto che una volta una donna veniva portata in manicomio soltanto se il marito si stancava di lei, quindi direi che era un po' drammatica la situazione. Allora io vi leggo l'incipit e vediamo se ci sta anche un capitoletto, intanto vi volevo far vedere, no ve lo faccio vedere dopo, allora mi piacciono i fatti, amo sapere come stanno le cose, per questo ho sempre odiato le risposte vaghe per non dire ridicole degli adulti. Insomma tu ti affidi a dei veri e propri oracoli del sapere e loro iniziano a farti credere che Babbo Natale e la Befana non solo esistano ma che se non ti comporti bene il primo ti ignorerà mentre la seconda ti riempirà di carbone. Poi attaccano con la solfa che se mangi gli spinaci diventerai forte come braccio di ferro, pretendono che ti beva la favoletta della cicogna che porta i neonati e quando cresci iniziano a ripetere quanto vorrebbero tornare a vivere la tua età spensierata e senza problemi, sapendo che non resisterebbero più di un giorno nei nostri panni. Ecco, a furia di sentirmi dire che il naso mi si sarebbe allungata ad ogni bugia, ho maturato una strana attitudine per i fatti spiegabili in modo semplice. Sì, parlo proprio della verità. Quando ho avuto la conferma che la ricerca della verità è la cosa più importante di tutte, il giorno in cui ho incontrato due donne, Vittoria e Nelly sapevano riconoscere la verità e soprattutto sapevano raccontarla. Questo è il giornalino che teneva la nostra protagonista. La settimana dei mestieri. Buongiorno lettori, finalmente vi posso raccontare della tanto attesa settimana dei mestieri, infatti dal 10 al 15 aprile abbiamo avuto la possibilità di incontrare persone che ci hanno illustrato il loro lavoro. Lunedì 10 abbiamo incontrato un pompiere che ci ha mostrato tutto quello che si deve fare in caso di incendio, ci ha fatto scrivere il numero del pronto intervento sul diario e ci ha spiegato come affrontare un'emergenza, mantenere la calma, chiudere la porta della stanza in cui si trova il fuoco, sigillare ogni fessura con stracci e avvolgersi, se possibile, in una coperta bagnata o sdraiarsi sul pavimento dove l'aria è più respirabile. Martedì abbiamo imparato a misurare la pressione grazie alla mamma di Giovanna, un'infermiera specializzata che ci ha dato dei buoni consigli su come fare una fasciatura o disinfettare una ferita, ma soprattutto ci ha mostrato come si fa un massaggio cardiaco e la tanto attesa respirazione bocca a bocca. Tutto molto utile. Mercoledì è arrivata un editor, un mestiere che ha a che fare con la pubblicazione di libri in una casa editrice. L'editor ha il compito di scegliere i manoscritti, sia italiani che stranieri, le copertine e i titoli dei nostri amati bestseller. E infine giovedì è arrivata la giornalista che dopo averci raccontato qualcosa di sé della sua carriera ci ha mostrato il suo lavoro in diretta. Infatti durante la sua presentazione ha ricevuto una telefonata ed è dovuta fuggire per inseguire una notizia importante. Insomma fare giornalismo è una vera avventura. Un ringraziamento speciale va alla dottoressa De Angelis che ci ha regalato questa possibilità. Capitolo 2. Giovedì sono arrivata a scuola insieme a Martino, il mio migliore amico e compagno di banco dalla terza elementare. Tutte le mattine ci aspettavamo alla fermata dell'autobus e facevamo l'ultimo pezzo di strada insieme, chiacchierando del film o della serie tv che avevamo visto il giorno prima e di quanto sarebbe stato bello convincere i nostri genitori a portarci a vedere il castello di Mary Poppins. Ma cosa dico? Il castello di Harry Potter? Non so, ho creato. Poi parlavamo anche di Matteo, un ragazzo bellissimo della terza C. Aveva gli occhi blu, il naso pieno di lentiggini e un libro sempre in mano. Sentivo che eravamo fatti l'uno per l'altra e ogni volta che lo vedevo le gambe mi diventavano di gelatina. Nei miei sogni a occhi aperti mi immaginavo mentre disinvolta mi avvicinavo a lui e gli chiedevo di cosa trattasse la sua lettura. Nella realtà muovevo qualche passo e poi tornavo indietro di corsa. Io e Martino avevamo iniziato in prima media a far parte di Fuori dal Cerchio, il giornale online della scuola e da quest'anno ci trovavamo entrambi in prima linea. Martino si occupava soprattutto delle notizie sportive e di cosa si poteva fare in città durante i weekend. Io pensavo alle pagine di cultura, spesso si trattava di approfondimenti di temi che avevamo affrontato in classe come nel caso della globalizzazione e alle notizie che riguardavano la scuola. E poi c'era Anita, che non era in classe con noi e si occupava di moda, anzi di fashion, come diceva lei. Martino diceva che avrei dovuto invitare Matteo a partecipare alla redazione del giornale, così ci saremmo conosciuti e avrei capito se i libri che aveva sotto braccio li leggeva davvero o se li esibiva solo per velarsi un tono. A volte non capivo la ragione di questa sua ironia. Forse era un po' geloso? Poi mi sentivo ridicola anche solo ad averlo pensato. Quel che era certo era la mia totale incapacità di fermare Matteo per chiedergli con l'aria più naturale del mondo, ehi cosa stai leggendo? Ti andrebbe di scrivere una recensione per il giornale della scuola? Era fuori discussione. Insomma lo ignoravo per evitare che capisse che mi piaceva da morire. E in ogni caso davanti a me Martino di solito Matteo si girava dall'altra parte tirava dritto. Al tipico atteggiamento del maschio che dà poca confidenza, mi ha detto quella mattina Martino. In attesa che la campanella di inizio lezione suonasse, c'eravamo fermati a chiacchierare in corridoio. È timido, l'ho difeso io. Lo dici solo perché ti piace, comunque secondo me la sua è in sicurezza, ha sentenziato lui che si vantava di conoscere i comportamenti umani come le sue tasche. Martino aveva sempre avuto le idee chiare sul suo futuro. Voleva fare lo psicologo e forse era per questo che andavamo tanto d'accordo. Anche per me scrivere era sempre stata una certezza. Avevo storto la bocca, probabilmente aveva ragione lui, ma iniziavo a non esserne così sicura nemmeno io. Secondo me dovresti dirglielo che ti piace, ha asserito il mio amico in uno dei suoi momenti di follia. L'ho fulminato con gli occhi. Ma sei matto? Avrai un attacco di cuore prima di finire la frase e poi prima non gli parlo nemmeno e dopo gli dichiaro il mio amore. Ma che strategia è? Magari a lui piacciono le ragazze decise, quelle che non si fanno problemi a invitare un ragazzo a uscire. Come si dice? Emancipate? Eh? Martino iniziava a farmi paura, ma prima che potesse indagare i suoi nuovi pensieri ha sussurrato. Eccolo che arriva. Oddio dove? Shhh! Mi ha risposto tirandomi verso di lui. L'agitazione e lo spostamento del peso mi hanno fatta sbandare per un pelo. Non mi sono sfracellata a terra. Per un pelo è per il braccio di Matteo che mi ha sorretta. Il suo libro gli è caduto di mano. Ehi, stai attenta! Mi ha detto mentre il mio stomaco si risucchiava. Tutta l'aria dei polmoni è iniziata a balbettare delle scuse prive di suono udibile. Mi dispiace, scusami. Ho raccolto il libro e glielo ho dato. La sua mano ha sfiorato la mia e il mio cuore ha iniziato a tamburellare nel petto così forte che ho temuto che lui potesse sentirlo. Sono fuggita in classe per scappare dal calore soffocante che mi stava inseguendo. Ma sei impazzita? Era l'occasione d'oro per parlargli. Martino mi fissava dal suo angolo di banco dopo essermi corso dietro. Ma gli sono caduta addosso. Penserà che sono un'idiota. Secondo me ha solo capito che hai sempre la testa tra le nuvole. Non mi preoccuperei. Ho raccolto il suo libro. E cosa legge il nostro principe? Non lo so. Ho mentito perché non riuscivo a dirgli che il titolo di quel libro non l'avrei mai dimenticato. Ci siamo guardati e siamo scoppiati a ridere mentre la professoressa chiudeva la porta e annunciava che nel corso della mattinata sarebbe arrivata un ospite molto speciale. Si chiamava Vittoria e faceva la giornalista. Allora vi ho letto i primi due capitoli quindi direi che può bastare. Poi capirò se ogni tanto ne posso leggere ancora un po' oppure no. Nel frattempo devo fare un'attenta valutazione di avervi detto tutto. Mi è piaciuto Mengoni. Mi ha risposto soltanto Francesco e ho visto un'altra persona Vittoria che è Vicky che mi ha detto che era molto adatta al periodo. Ditemelo se vi è piaciuto perché mi piacerebbe continuare a leggere le sue canzoni. Non sia mai che così facendo io possa arrivare a lui anche se qualche volta ci sono già arrivata ma non ve lo racconto adesso. La prossima volta vi faccio vedere una fotografia. Nel frattempo direi che vi ho detto tutto perché io prendo appunti sapete perché la mia memoria mi ha salutato già da un bel po'. Bene, vi ho detto tutto. Io vi do un abbraccio, vi do un bacio, vi ringrazio di avermi seguito. Vi ricordo, Sara sarà felicissima, non le ho detto nulla di tutta questa pubblicità. Vi ricordo i due romanzi per ragazzi di Sara Rattaro e ne uscirà un terzo e credo di poter dire che sulla storia di Majorana, ma non dico nient'altro, poi aspetto che l'autrice mi consenta di dire cose. Buona serata, grazie a tutti. Io resto a casa, ma direi che restiamo a casa tutti insieme, no? Un abbraccio, ciao!